Prende il via domani 26 agosto la settima edizione di Libri nel Borgo Antico. La rassegna cura dell'Associazione Borgo Antico in programma fino a domenica 28 agosto nelle piazze e nelle vie del Centro Storico di Biceglie. Francesco Rossi. 145 autori, 30 case editrici popoleranno il suggestivo Centro Storico di Biceglie il 26, 27 e 28 agosto trasformando il morgo medievale in uno scrigno di saperi ed emozioni. Star di Libri nel Borgo Antico sarà come ogni anno Piazza Duomo su cui sono già puntati i riflettori di tutto il pubblico nazionale. Sarà sul palco allestito ai piedi della cattedrale che saliranno i 15 big della settima edizione della Cermesse per raccontarsi e raccontare la propria visione del mondo filtrata dalle pagine delle loro più recenti pubblicazioni. Agli autori che si alterneranno sul palco di Piazza Duomo si aggiungeranno altri 130 scrittori pugliesi che già dal pomeriggio di ciascuna serata presenteranno i loro libri nelle cinque piazze che ospitano la rassegna. Ma questa settima edizione di Libri nel Borgo Antico sarà anche all'insegna di solidarietà, integrazione, dialogo e collaborazione tra associazioni per la promozione della lettura, del territorio e dei suoi protagonisti. La rassegna letteraria diventa anche un grande laboratorio di aggregazione tra associazioni identi e territoriali impegnati nella cultura e nel sociale. Tra i protagonisti si ricordano l'Arcidiocesi di Barletta Andriatrani, l'Azione Cattolica, l'Associazione Regionale Pugliesi a Milano che promuoveranno una serie di incontri letterari su temi di interesse specifico. Entrano quest'anno a pieno titolo tra i co-organizzatori della rassegna i soci della famiglia rotariana Rotary Club, Rotaract, Interact Club, Biceglie che cureranno tutte le conversazioni con gli autori in programma presso il castello. E nei vicoli affollati dalle case editrici ci sarà anche altro da raccontare. Da non perdere lo scambialibri, 3.000 volumi da scambiare in libertà e a costo zero durante tutto il corso della manifestazione. Il Borgo delle Fiabe, un laboratorio di letture animate per bambini a cura della scuola dell'infanzia Gesù Fanciullo. Le visite guidate nei musei al Centro Storico di Biceglie e la sottoscrizione a premi finalizzata al completamento del restauro dell'edicola votiva dei tre santi di strada Cerriglio. Grazie.